Buona vista alla vostra ectorella della peglia, guarda il video se ne è comosa e spagnolo Tutti ragazzi a Ligia, io vado a tutti voi, è il calcio sport più bello del mondo Ed oggi ancora di più, ragazzi, sono una trionfale signori Vittoria, vincente e convincente, scusate il doppio gioco suoi con le parole Tutti contenti ragazzi, sarò in estasi Perché Lazio parte subito a porte, Frippanderson sterzata, mancino, in rete, io becco il marcatore Frippanderson 3,29 euro e mezzo, io ho inclusa signori, 3 euro e mezzo ho inclusa, così si fa Poi però, la doppia vesino da calcio d'angolo, da vicino, rete, girata di destro, il portiere la para Ma non è in rete, con tutta la palla, con tutta la porta per le rete Poi però, nella corso di distanza c'è un A sul colpo di destra Ma dopo, nel secondo tempo, ancora a fine primo tempo, Frippanderson in diagonale destro Ed è rete, 3 a 1 Ma nel secondo tempo, lo chiude lui, Gustav, Tange, Isaac, 4 a 1 La prima volta, in questo campionato, Lazio, fanno 4 gol Però subendo nello stesso Quindi becco il marcatore e si torna a vincere in grande stile Prima, schedina Domani saranno nuovi vostri, mi metto anche su Instagram con la barba fatta La schedina vinta A presto e buona la prima o la prima Vinciamo la prossima schedina Se me comunque, forza Lazio Buona la prima Grazie